Ciao amici, benvenuti nella mia cucina per una nuova puntata di Chef per Passione. Scusate, io volevo farvi vedere questo ben di Dio di tutto che c'è sul mio bancone oggi, carciofi, porri, alloro, rosmarino, basilico, timo, maggiorana, io tra le due faccio fatica perché non le mangio che non mi piacciono, e dei vasetti di basilico bellissimi e del baccalà meraviglioso. Visto che io oggi non faccio niente perché faccio solamente la conduttrice, facciamo entrare il protagonista di oggi, lo chef Alessandro. Ciao, piacere, mi fanno bene, grazie. Bene, mazza quanto sei alta Alessà, ok. Ale, prima di iniziare, presentati, dici da dove vieni, insomma fai un po' di presentazione di te stesso. Sì, allora sono Alessandro, vengo da Varazze, sono chef e titolare del ristorante Boma. Sì. Il ristorante Boma si trova appunto a Varazze, all'interno del porto turistico. Sì. Siamo proprio affacciati sulla banchina davanti alle barche a vela, proprio per quello che si chiama Boma. Ok. E insieme a mio fratello ho gestito questo ristorante dal... Da quanto tempo? Questo ristorante dal 2006. Prima? Noi c'è da dire che eravamo già presenti all'interno del porto, nel vecchio porto, prima che subisse la ristrutturazione nel 2003 e quindi dall'anno 2000. Ok, fantastico. Mi hai portato una meraviglia. Che cosa prepari? Allora, stamattina sono passato da un'azienda agricola che rimane vicino a Varazze. E ho preso un po' di cose, ho preso il basilico, il timo, un po' di gusti, il mio amico mi ha dato un po' di gusti. Ho portato i carciofi che saranno, faranno parte della ricetta, i porri e lo stoccafisso. Fantastico. Hai detto baccalà, ma non è baccalà. Scusami, hai ragione, stoccafisso però l'hai bagnato, cioè è già bagnato e tutto quanto. Baccalà è quello, lo stoccafisso è quello secco, il baccalà invece quello sale. E quello sotto sale che va rigenerato nell'acqua. Esatto. Ascoltami, lo farai sbollentare un attimo? Il piatto che presentiamo oggi è un'insalatina di stoccafisso, sbollentato chiaramente nell'acqua. Sotto metteremo una patata schiacciata, condita semplicemente con un po' di sale e un po' d'olio. Magari metteremo un po' di questi bellissimi gusti. Poi faremo un'insalatina di stoccafisso e sopra faremo saltare i carciofi con il porro. Fantastico. Quindi è un piatto semplice però molto molto gustoso. Semplice che si possono ricreare. Ce l'hai in menù? Sì, in menù ogni tanto lo mettiamo, ogni tanto lo leviamo perché noi il menù lo variamo abbastanza spesso. Ok, poi in base anche alla stagionalità del carciofo. Sì, chiaro. I carciofi siamo quasi alla fine ormai. Esatto, purtroppo io mi cibo di soli carciofi durante tutto questo periodo. Allora io mi sposto da questa parte così ti lascio lavorare e nel frattempo poi ti... Allora qua ho messo al... mettiamo il booster e vediamo di riuscire a metterlo più al massimo possibile. Allora tagliamo un pezzettino così non lo cuociamo tutto. Ti piace lavorare lo stock? A me piace molto perché lo stock affisso è secondo me uno dei prodotti che dovremo valorizzare il più possibile perché diciamo che richiama tutte quelle che sono le tradizioni della cucina Ligure. Pur non essendo un nostro pesce, la cucina Ligure ha parecchi parecchi piatti e comunque fa parte proprio della nostra tradizione. L'Italia è il primo consumatore di stock affisso al mondo. Vedi, non lo sapevo. E lo mangiamo in diverse regioni, in Liguria, in Veneto, in Campania. In Campania, ne vengo dalla Campania, adesso in questo caso si parlava di baccalà però ho conosciuto uno chef che si fa chiamare un professore che ha l'osteria del baccalà, lui fa solo ed esclusivamente piatti con il baccalà. Punto, e basta. Quindi dall'antipasti... Sì, perché forse loro laggiù lo chiamano baccalà proprio, forse non lo chiamano neanche stoccafisso. Allora, in realtà mi ha fatto vedere una bella scella sotto sale, devo dirti, e quindi era baccalà. Però effettivamente la parola stoccafisso, hai ragione, hai detto bene tu, si sente tantissimo di più qui al nord piuttosto che giù al sud che è un po' baccalà in generale. Sì, per esempio, in Veneto fanno il baccalà alla Vicentina ma usano lo stoccafisso. Vedi? Ok, quindi... In Spagna il baccalà però è stoccafisso. In realtà c'è una differenza sostanziale che vi ho spiegato più e più volte nel corso di questi anni. Uno viene essiccato all'aria aperta sotto il sole e l'altro viene messo sotto sale. Esatto. Ok, quindi lo stoccafisso quando lo prendete peserà molto poco, ma in realtà quando poi lo mettete in acqua aumenta di volume. Parlami un po' del tuo ristorante. Quali sono i piatti, diciamo, principali, quelli che vanno di più? Noi, va bene, essendo di fronte... Guarda qua, se vuoi mettere tutta un po' di rumenta che c'hai, vai. Pronti, grazie mille. E noi chiaramente essendo, diciamo, avarazze, essendo comunque anche come ristorante, non nell'entroterra ma a fronte mare, prediligiamo il pesce chiaramente. Carne la proponiamo, qualche piatto di carne, o usando anche tante verdure, però diciamo che... Prevalentemente il pesce. Che pesce? Ma il pesce li cerchiamo di adoperare sempre. Uno, quello che ci dà stagionalmente il mare, nel senso che non andiamo ad utilizzare pesci che non ci sono nella stagione in cui siamo. E nel limite del possibile, perché poi bisogna essere anche onesti, nel limite del possibile cerchiamo di utilizzare il pesce nostrano. Quando non c'è, quando non c'è. Purtroppo il nostro mare, questi ultimi anni, sono sempre meno pescosi e di conseguenza dobbiamo adattarci a quello che troviamo. Qual è il piatto che tu non potrai mai togliere dal tuo menù? Guarda, uno dei piatti che non possiamo mai togliere manco a farla apposta è un piatto a base di bacalà. E' un piatto che avevamo inserito un po' di anni fa ed è una rivisitazione, ma neanche poi tanto, fatto alla nostra maniera del brandacujun. Ah, ok. Ok, che noi invece che fare con lo stoccafisso come fanno nella zona di Ponente della Liguria, lo facciamo con il bacalà. Ok. E l'abbiamo introdotto un anno nel periodo invernale. Vuole, se vuoi. Sì, allora ce lo buttiamo. Sale, mettiamo un pochettino di sale. Vai. Perché se no... Ah, quindi l'avete introdotto in inverno? No, ma l'avete introdotto in un periodo invernale perché, secondo me, il bacalà e lo stoccafisso in generale sono piatti più un po' invernali, no? Dammi pure, eh. Dammi pure. Ah, sì, scusa, grazie. E com'è fatto bene esattamente? Allora, il bacalà, il bacalà, il bacalà, il bacalà, il bacalà, quindi il bacalà, noi sul menù lo abbiamo come... Metterei un po' di acqua e limone per questi carciofi, non devi evitare che diventino neri. Ti do... aspetta che avevo una ciotolina più piccola, eccola qua. Ti metto un po' di acqua. Sì, grazie. Così ci mettiamo un po' di limone. Anche questi limoni. Vabbè, hai portato delle cose... Ridiciamo dove le hai prese, che così le... Le ho prese in questa azienda agricola che si trova nel comune di Celle, che si chiama azienda agricola Paolo Calcagno, famosa per il basilico. E' famosa per il basilico, ma... Infatti, signor Paolo Calcagno me ne porterò a casa un vasetto per gentile concessione di Alessandro e me lo pianterò nell'orto, così sappia che la penserò quando farò il pesto. Ok, quindi... Ti stavo dicendo... Sì, dimmi perché non... Da ricordarsi di usare sempre il gambo, anche perché quando sono questi nostrani... Guarda, io faccio video su video su video su internet per non buttare via i gambi dei carciofi, quindi... Perché sono... Voglio tutto quando sono nostrani, soprattutto. Sono... Guarda che bello che è. No, no, ma poi... Io gli do una passatina in forno con un po' di aglio, un po' di olio, un po' di sale, tagliati così, sottili, come li stai tagliando te. Ma anche in pinzimonio, che buoni che sono. Sì, vabbè. Insomma, io per il carciofo divento matta, li ho piantati nell'orto, sono carciofi tardivi, quindi stanno cominciando ad uscire... Ho visto una testolina piccolissima. Quindi col porro, quindi porro e carciofi vengono saltati. Tattiamo in padella, sì. Ok. Se lo tagliamo bello fino... Wow, che spettacolo. Vai, 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 muoviti pure, tranquillo. Ti stavo dicendo, il baccalà... Ho degli asparagi, ti servono? No. Ok. Dimmi, dimmi, vai pure avanti. Ma, dicevo, l'abbiamo introdotto d'inverno perché... Proprio perché, secondo me, insomma, il baccalà e lo stoccafiso solitamente sono piatti un pochettino più invernali, no? Poi arriviamo all'inizio della primavera e dico, va bene, lo leviamo dal menù. E invece? E l'abbiamo levato perché... Insomma, non è che facciamo dei sondaggi prima di levare i piatti dal menù. L'abbiamo levato, passano il primo, il secondo, il terzo weekend e tutti i weekend. Ma non lo avete più? Ma non lo avete più? Ma perché l'avete tolto? Ma perché l'avete tolto? E gli ho detto, ma perché ogni tanto magari qualche di uno... Mangiamo anche qualcosa di diverso, no? Quindi l'hai reinserito? Niente. Poi adesso ormai è un piatto... O te ne sei fregato? Dal menù perché sono per esempio i nostri ravioli di pesce che li facciamo con il pescato che troviamo sul banco e li facciamo noi, quindi è un piatto che non leviamo. Però un antipasto solitamente... Carne che cos'hai? Guarda, carne, allora nel periodo invernale per chi non mangia pesce, nei primi proponiamo il pesto perché non possiamo... Un ristorante in Liguria non può non avere il pesto in carta e quello l'abbiamo. E proponiamo il minestrone. Ah, ok. Tutto sommato voglio dire, per chi non vuole mangiare pesce e anche per chi è vegetariano è una buona proposta. Minestrone, perfetto. È anche buono. Minestrone alla genovese, quello col cucchiaio che rimane in piedi. Alla genovese, con il pesto dentro. Ok. Allora, prendiamo un po' d'olio che l'ho visto qua. Ok, perfetto. E poi va bene ai secondi, chiaramente un po' di carne, facciamo la tagliata di carne con rucola e grana. Ok, quindi cose abbastanza... Mettiti pure nel centro lì. Aspetta, ti aiuto che questo è un incubo. Vai, te lo alzo un attimo alto, poi semmai lo abbassiamo. Quindi lo chef sta mettendo porro e poi andrà a mettere, credo, il carciofo. Sì. E nel frattempo stiamo sbollentando lo stock. Sì. Allora, io direi che mancano 16 secondi, 15, 14, 13, eccetera, alla pubblicità. Nel frattempo continuo a far lavorare Ale, se no non ce la fa, ma ce la farà. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Tra poco. Grazie. 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 Va bene, va bene, va bene. Eccoci, siamo tornati. Lo chef Alessandro del ristorante Boma di Varazze ha messo i carciofi all'interno della padella. e quindi volevo avvisarvi, se non vedete più i carciofi nell'acqua e limone, stiamo, sta preparando un'insalatina di stoccafisso abbastanza leggera, dai, non è neanche una di quelle cose che dici. Sì, assolutamente, è tutto cotto. Perché ogni tanto arrivano degli chef, boom, burro, panna, latte, uova, etch, etch, etch. Invece in questo caso è una bellissima insalata di stock. Dentro la padella, vedete, ci sono porri e carciofi, così, al naturale, tagliati, olio extravergine di oliva. Assolutamente sì. E si rosolano un po'. Sì, mettiamo un po' di sale fino. Vuoi il fino? Guarda, no, questo è un nuovo sal che mi ha fatto prendere un nutrizionista. Tieni, questo è sale normale. Ogni tanto arrivano con delle richieste, prendimi il sale iposodico, tanto vale non metterlo. Io lo uso però. Lo usi? Ma per me? No, dimmi, ma fa un po', secondo te. Ma secondo me sì, poi è la buona abitudine di salare meno, secondo me, no? Sì. È un sale che ne metti la stessa quantità, poi in effetti ti ritrovi che sala meno. Che sala meno, vabbè, allora lo rubo. Però poi quando mangi dici, ma sì, va bene lo stesso, no? Ok, lo rubo perché sono a dieta. Un po' di timo, vai in questi carciofi. Vai, vai, butta dentro tutto. Senti, chef, qual è il tuo piatto preferito per te? Cioè quello che mangerai sempre? No, il piatto che mangeresti per ultimo. Ma io in assoluto la cosa che per conto mio quando finisco di mangiare, mi fa piacere mangiare, è sempre un pezzettino di formaggio. Ok, curioso. Finisco sempre di mangiare, più che mangiarmi un dolce, se mi danno... Quello sono d'accordo perché succede anche a me, non sono una mangiatrice di dolci, ma di grandi formaggi. Per esempio una formaggita di capra, bella fresca. Allora, ti consiglio, però è difficilissimo perché si vende solo, sono stata appunto in campagna e sono andata in questo agriturismo dove sono gli unici che hanno il conciato romano tracciato, certificato, che è un formaggio stagionato dentro, mamma mia, dentro questi vasi di terracotta. Insomma, si mangia con la mela nurca cotta, vabbè, insomma, è una figata. Quindi il formaggio è un piatto finito, fatto e finito? Non so, un piatto di pasta, delle lasagne, qualcosa, un secondo, c'hai qualcosa che... Ma guarda, in generale, cosa che a me piace molto è il fritto, assoluto. Ok. È il fritto... Ah, sei un goloso, non di dolci, ma sei... No, no, di dolci no, io ho preso... cioè, tra una torta al cioccolato e una torta pasqualina, io mi mangio la torta pasqualina. Anch'io sono così, anch'io tra una fetta di torta e una fetta di prosciutto crudo di Parma, prediligo il prosciutto. Ah, assolutamente sì. Ecco, ah, qui hai delle patate. Allora, le patate le ho portate un po' già, un po' cotte. Hai fatto bene, le ha già un po' cotte perché cucinare una patata, se no era assolutamente... Sottiamo qua. Le mette a far, no, prendere di nuovo il suo bollore e la sua lessatura dentro l'acqua del baccalà. Senti, c'è qualcosa invece che non mangi perché non ti piace? Io no, devo dire la sincera verità. Mangi tutto. Io mangio tutto. Quindi anche cibo etnico, roba piccante? Sì, sì. Sì, sì. Una ciotolina per condire lo stocafisso. Vuoi una ciotolina per condire? Te la prendo dalla lavastoviglia e te la lavo. Ah, vuoi quella, va bene? Ah, anzi, questa cosa. Tanto qua siamo in casa, noi facciamo, io apro, lavastoviglia e gli prendo, fatto. Ah, ok, tu lo condisci, chiaramente lo chef condisce prima il suo stock da solo. Sì, così facciamo un po' vedere tutti i livelli cromatici, no? Ok. Che piatto vuoi per impiattare? Io metterei un piatto bello piano. Ho questo, bello grande, lo vuoi? Va bene, va. Se no, quello della pizza, ma c'è scritto pizza. No, pizza no. No, va bene, va bene. Questo non è un brutto piatto, è gigantesco, ma ce ne faremo una ragione. Aspetta che ce lo sciacquo. Senti, sei marito, sei padre, sei single? No, 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 sono accompagnato. Sei accompagnato. Sì, ho una figlia mia, una figlia... Insieme? No, insieme no, una figlia della mia compagna. Ah, ok, fantastico, guarda, non ti preoccupare perché noi siamo in sei tutti i figli. Come fosse... Esatto, ah, ok, quindi voi siete in quattro, diciamo, noi siamo in sei, vedi, però più o meno ho la tua stessa situazione. Che meraviglia, ci sono dei profumi, amici cari, che purtroppo non vi posso far sentire. Ma ci abbiamo lo stock affisso. Ahimè, qui c'è lo stock. Allora, ci aggiungiamo ancora un goccino di sale. Un pochino di sale. Un po' di pepe. Pepe qua. Pepe, vai. Quindi sale, pepe, olio, immagino. Un po' di olio, ci mettiamo anche una fogliolina di basilico, meraviglioso. Lo lasciamo a pezzetti. Per me oggi, questo momento è duro, però... Ci mettiamo una goccina di limone. L'hai spostato volutamente o no? Allora, aspetta perché si è, non lo prendeva più. Perché l'ho fatto saltare. Sì, è questo brutto vizio di far saltare adesso. Guarda, è il brutto vizio dell'induzione che si spegne quando non salti. Quindi, olio, sale, pepe e basilico. Esatto. Usiamo questa? Massimo. Quello che vuoi. Guarda che te li giro un po', ti aiuto. Senti, d'estate hai dei posti fuori? Allora, d'estate abbiamo un bellissimo dehors che abbiamo rinnovato quest'anno. Sì. Prima avevamo gli ombrelloni, adesso invece abbiamo fatto tutto a un pergolato che ci permette di lavorare meglio perché con le condizioni climatiche e via dicendo, insomma, direi che riusciamo a lavorare assolutamente meglio. Dammi. Tutto qua. Così mi ci metto le patate. Bravo. Guarda com'è. È molto genovese, anche molto ligure, quindi sta facendo… Meno si sporca in cucina. Meno si sporca, meglio è. Vediamo ancora un attimo. Che belli anche questi limoni. Potrei rubarti anche un limone. Ma sì. Che lo sto mettendo dentro l'acqua. Sempre del nostro amico Paolo Calcani. Eh, ma infatti immaginavo che fosse suo. Allora, qua abbiamo finito, possiamo spostarla, così si spegne. Ok. Allora. Allora. Qua mettiamo un po' di sale, che lo avevamo qua. Ti libero un po', così almeno si inquadrano bene. Scusami, tu mi vedrai spostarci un po' di cose, ma almeno riescono a inquadrarti per bene. Un po' di olio. Quindi, di nuovo, sale, pepe, olio sulla patata. Adesso credo che la schiaccerà. Sì, vediamo questa attrazione qua. Giusto, ora la schiacci. Ah, questi si stanno proprio croccando un po'. Sì, direi che ci siamo quasi, mi sembra. Buone. Ricetta semplice, ma di grandissimo gusto, eh. Ok. Senti, tuo fratello dentro il ristorante... Il fratello si occupa della sala. Della sala. Quanti siete in cucina, invece? In cucina siamo d'inverno, ahimè, c'è un po' meno lavoro, siamo in tre. L'inverno, d'estate, arriviamo a essere in cinque. Ah, ok. Ce l'hai, Valentina, un cucchiaio che così lo mettiamo un po' dentro? Assolutamente sì. Mettiamo un po'. Ah, quindi gli dai una forma. Ci diamo un po' la forma, va. Ah, ok. Se riusciamo poi a scopparlo, eh. Speriamo. Ma sì, dai. Quindi non va a appoggiare, scusami, non si appoggia sopra? Sì. Ah. Ce l'appoggiamo sopra. Adesso sono curiosa. Tra l'altro, se non fossi stata in questo regime nazista alimentare... Ma facendo sto mestiere, come fai a fare... Mangere... No, vabbè, ma non hai idea. Il problema è che io, oltre che a cucinare, che non sono uno chef, vado in giro a fare un po' di casino quando ci sono dei grandi eventi, io mangio! Ma sì? Cioè, e mi pagano per mangiare. E quindi è un po' complicato. Listo? Tac. Voilà. Bello, che fame! Aiuto! Bevo un po' d'acqua. L'ho persa. Ah, l'ho messa lì. La cosa che ti piace cucinare di più, invece, qual è? In assoluto i primi piatti. I primi piatti in assoluto. È un po' tipico di chi ama cucinare, cucinare il primo, anche a me piace. Te le spengo, posso, Allie? Grazie, sì. Va bene. Grazie. E non vorrei che... Ok. Vieni qua. Quella, ma guardate che meraviglioso piattino! Hai portato del vino, ne parliamo nel frattempo? Sì. Allora, questa è un'altra azienda agricola, sempre non vicinissima al nostro territorio, ma comunque non distante, è di Albenga. Sì. L'azienda Bio Bio, e proprio Bio Bio perché loro si sono specializzati nel vino biologico. Ok. Questo è un pigato, la nuova annata, uscita proprio in questi giorni. Questi giorni sono al Vin Italy tutti quanti a presentare i loro vini, anche loro sono al Vin Italy. Hai fatto un piatto bellissimo, buono, bello, sicuramente. Ho fatto anche un po' di carciofi in più, visto che sei a dieta, questi qua li puoi mangiare. E ma sono in quei tre giorni orrendi, in cui non posso utilizzare né il sale, che mi manca come un fidanzato che mi ha lasciato, e nello zucchero. Quindi mi sto alimentando con delle cose assurde. Però ho finito, eh, solo oggi, poi da domani si può ricominciare in un regime normale. Beh, piatto meraviglioso, chef, bello. Ci mettiamo anche un fiorellino. Vai, 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 hai tempo, guarda, hai un minuto, un minuto circa, quindi. Grandissimo piatto, molto carino. Voilà. Bene, come lo chiamiamo? Allora, lo chiamiamo insalatina di stoccafisso su battuta di patate e carciofi saltati con porro. È stato un piatto che ha fatto con molta precisione, molto semplice, però non lo fate a casa, perché se lo volete mangiare dovete andare a Varazza, al ristorante Boma, di Alessandro e, come si chiama tuo fratello? Giovanni. E Giovanni, quindi mi raccomando, andate, io spero di averti di nuovo ospite qui, magari facciamo due spaghi o dei ravioli. Ah, bravo, due ravioli, sono un po' picchettino più di tempo, eh. Eh, lo so, abbiamo questo problema. Prima li ho fatti, ma così, li ho proprio lanciati nel tirapasta e dentro l'acqua, vabbè, insomma. Si fa quello che si può. Noi, grazie. Grazie a te, Valentina. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Chef per Passione, mi raccomando, rimanete collegati. A domani, ciao. Ciao a tutti.